Dottore Terziani, 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 Certo, ci vedono e ci sentono, siamo spiriti speciali. Oriana, te l'ho già detto, siamo discesi qua giù per capire meglio da vicino che cosa sta accadendo. Dante, Dante, aggiungerò un altro girone all'inferno. Dante, sono sufficienti già quelli che stavano. Riduco, riuso, riciclo. Dobbiamo avere rispetto per gli altri popoli. La gente oggi non vuole più seguire i nostri sogni di ricchezza. Oh, becero! In quel periodo non era più il terzano, era Anam, il senza nome. La globalizzazione globalizza i cervelli. Bomba atomica? Un oggetto infernale. Ma nel mio inferno non c'è. Bomba atomica la metterò. Per i terroristi andavano combattendo. Il terrorismo non sarà sconfitto uccidendo i terroristi, le sofferenze del mondo. Dobbiamo ascoltare il cuore. Di cuore ce n'è uno solo. Musulmani, cristiani, ottentotti, bantù, esquimesi, uomini, donne. Il cuore è uguale dappertutto. Ha speso una vita a farsi un nome e finisce per non avere un nome. Musulmani, cristiani, ottengare il cuore.